Un saluto a tutti da la redazione. La redazione di Rossini TV è benvenuta a questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia e il piano del Bruscolo Magazine. Prima di iniziare, come di consueto, vi ricordo i nostri contatti al quale potete inviare le vostre segnalazioni. Qua in sovrimpressione trovate il numero di WhatsApp oppure la mail di redazione vallefoglia-rossinitv.it. Vi ricordo che potete inviarci foto, video, messaggi di testo o messaggi audio per quanto riguarda WhatsApp. Ma partiamo subito con la prima notizia parlando del recupero delle case rurali. Visto che nei giorni scorsi sono state approvate delle agevolazioni per il restauro di questi edifici. Dalla giornata di lunedì 8 novembre, infatti, per tutti i cittadini di Vallefoglia, possessori di casolari, è possibile presentare la domanda alle comune per richiedere un intervento di ristrutturazione. Vediamo. La normativa è approvata, è immediatamente eseguibile, quindi tutti coloro che vogliono recuperare vecchi fabbricati agricoli possono presentare la concessione di linsia agli uffici tecnici del Comune, l'Ufficio Urbanistica Sant'Angelo dell'Issola e diciamo una quarantina di fabbricati, quelli di maggior valore, sono conservativo, totale, così come più o meno erano già, senza modifiche. Tutte le altre possono avere dei miglioramenti e quindi recuperare 150 abitazioni, considerando che ci sono delle agevolazioni dello Stato, per noi ci sembra abbastanza importante. Le agevolazioni sono per il contenimento energetico, per la normativa sismica, per renderle con l'aria che tira con i terremoti più robuste dal punto di vista sismico e quindi abbiamo buone ragioni per pensare che probabilmente presenteranno dei progetti di recupero piuttosto che costruire il nuovo, recuperiamo gran parte della storia, della cultura, delle tradizioni, delle nostre campagne, dei fabbricati rurali e quindi questo è il senso di questo provvedimento che noi riteniamo molto importante. C'era una legge, una legge degli anni 90, che prevedeva che ogni comune doveva fare il censimento di tutte le case rurali e di queste scegliere quelle che avevano delle qualità, da un punto di vista della tipologia tipica, della casa rurale marchigiana, da un punto di vista storico architettonico e queste salvaguardarle. Noi avevamo un elenco molto numeroso che prevedeva anche tutta una serie di edifici che forse questi grandissimi valori, da un punto di vista tipologico architettonico, non avevano e nel tempo una parte di questo patrimonio non recuperato, anche per le difficoltà operative e tecniche che c'erano magari per fare il restauro conservativo, sono diventate dei ruderi o sono state abbandonate. Questa normativa cerca di intervenire con la ristrutturazione, anche se non è previsto lo spostamento, lo scivolamento della casa e la sua demolizione, cercano in questo modo di agevolare l'intervento che il privato potrebbe fare. Se questo si unisce, che forse l'edificio potrebbe fruire anche di finanziamenti di carattere nazionale dovuti agli incentivi come politica, noi pensiamo e speriamo che questo contribuisca a recuperare queste importanti parti del nostro territorio che costituiscono sia un valore economico ma costituiscono anche dei riferimenti ambientali importanti perché poi sono la storia del nostro territorio. Da quando è possibile fare questa richiesta? Noi abbiamo approvato una norma che è immediatamente eseguibile, per cui da oggi voglio dire possono essere quelle situazioni che rientrano appunto in questa opportunità, in questa ristrutturazione possono presentare la domanda in comune per poter portare avanti il loro intervento che come dicevo a differenza di prima ha una normativa che in qualche modo gli aiuta. E sempre in merito al tema del restauro delle case rurali e al piano di intervento previsto ha parlato ai nostri microfoni anche la consigliera comunale di Vallefoglie per il centro-destra, Carla Nicolini. Sentiamo. Consigliere, ci può spiegare qual è stata la problematica riscontrata da voi in questi giorni? La problematica di questi giorni è la variazione non sostanziale e ci tengo a dirlo e a specificarlo del piano regolatore comunale. In questo anno diciamo che ne abbiamo fatti parecchi di cambiamenti a questi piani regolatori, abbiamo sempre assecondato le idee, ma questa volta è stata proposta questa variazione in un consiglio precedente in cui eravamo contrari ed è stata nuovamente riproposta in quanto ci sono state delle osservazioni. Le osservazioni vengono da una buona parte della cittadinanza, ma questo per il sindaco è rilevante visto che ha detto chi sono questi perché c'è un filmato da visionare tranquillamente, in cui non si fa testo comunque di un'associazione che ha circa 5.000 iscritti e ha raccolto 5.000 firme e tutto viene perché questa modifica interessa anche queste due case che vedete dietro del piano regolatore. È una modifica che andava fatta da tantissimi anni, forse 30, e dalla fusione dei due comuni tra Sant'Angelo e Colbordolo questa modifica dopo sette anni hanno deciso di farla proprio in questo momento. Sapete tutti che è un momento forse di quelli più sospetti, non volevamo dirlo ma l'abbiamo detto anche in consiglio. Quindi il nostro voto contrario è stato solo per il fatto non che non teniamo di recuperare queste case perché sono la nostra storia nel territorio, ma se fosse stata decisa negli arco degli anni precedenti, perlomeno non in questi tempi sospetti, sarebbe stata una buona cosa anche perché in questo tempo parecchie di queste case sono andate alla malora, non hanno più un'utenza, non c'è più una strada. Dopo questa modifica che è stata votata a favore da tutti tranne che da noi, sono stati ben rapidi a indire un comunicato stampa per far apparire a tutti una cosa meravigliosa. Non è una cosa meravigliosa nel momento in cui in consiglio comunale si esce fuori anche con un discorso non inerente al momento che si stava discutendo, ma esce fuori il biodigestore in cui sono stata zittita due o tre volte e questo non è giusto, ho dovuto interpellare il presidente per farmi parlare e quando vai a toccare nella piaga qualcuno fa male. Non c'è purtroppo un confronto politico sul discorso dell'impianto che è forse il problema più importante del momento a Vallefoglia. Le persone hanno uno scontento, a distanza di circa un anno in cui è stato promesso in consiglio comunale un'informazione omogenea a tutta la popolazione, qua non si sa niente. Il progetto è stato presentato solo nel comune di Tavuglia, però il biodigestore viene costruito qua, come vedete, e noi seguiamo, brutto dirlo, la linea politica del 5 Stelle in regione in cui dice costruire su costruito e ridimensionare questi mega impianti che non ci serve un impianto del genere. Passiamo ora invece ad una notizia di cronaca perché nelle scorse notti a Montecchio è avvenuto un grave episodio di stalking dove un 26enne originario della Romania è stato arrestato per violazione degli obblighi di dimora e rapine impropria delle telefone e danni della ex ragazza. L'uomo, che aveva già avuto due carele per stalking, si è recato nei pressi dell'abitazione con un taxi, il quale attendendo in strada ha assistito a suo insaputo alla vicenda tra i due. Il molestatore è da prima entrato in casa della donna con un mazzo di chiavi che aveva ancora in possesso e una volta dentro ha intimorito e strappato dalle mani dell'ex il cellulare dalla quale stava chiamando i carabinieri. L'uomo è poi uscito dall'abitazione correndo e dirigendosi verso i taxi per poter fuggire, ma vedendo quanto accaduto il taxista ha contattato immediatamente le forze dell'ordine che in pochi minuti si sono recati sulle posto arrestando il giovane. E passiamo ora a parlare delle teme legato ai rifiuti, visto che in settimana sono arrivate numerose segnalazioni alle comune di Montelabate sullo stato di degrado in cui versava un'area della zona industriale. Un problema frequente è che l'assessore all'ambiente proprio del comune di Montelabate ha voluto esporre i nostri microfoni. Sentiamo. Assessore, ennesima discarica abusiva trovata nella zona industriale di Montelabate, ecco ci puoi spiegare la situazione? Il tutto nasce venerdì da una segnalazione di un cittadino, una segnalazione che ha riportato sui social. Io me ne sono accorto sabato mattina, o comunque mi è stato segnalato sabato mattina questo post. Domenica con il vice sindaco ci siamo subito precipitati sul luogo per capire qual era l'entità di quanto era stato riversato in questo piazzale qua. Sono state depositate una serie di tapparelle, probabilmente nascono da una ristrutturazione di qualche casa, tra l'altro anche tapparelle colorate che forse adesso quando gireranno le immagini magari qualcuno li si potrà accendere la lampadina da quale ristrutturazione provenivano. Per cui insomma a parte la denuncia sui social che è stata fatta immediatamente, lunedì mattina mi sono confrontato con Marche Multiservizi che subito ha deciso di intervenire, cosa che è stata fatta poi prontamente, proprio questa mattina effettivamente sono stati eliminati tutti i rifiuti. Tra l'altro va ricordato che c'è un regolamento comunale che appunto vieta il deposito di rifiuti a cielo aperto, voglio anche prendere qualche estratto di questo regolamento così che i miserabili capiscono di che cosa abbiamo a che fare. L'articolo 12, il comma 1 che è quello più importante, chiunque violi queste disposizioni sarà punito con un'assunzione amministrativa che va dalle 50 euro, penso ad esempio a chi butta una carta per terra, fino alle 500 euro che in questo caso sicuramente queste saranno, verrà applicato se riusciamo a trovare chi è stato. Contiamo anche di utilizzare, qua ci sono molte fabbriche quindi le telecamere di vigilanza se è possibile per appunto riuscire a capire chi si è comportato così in maniera così malavente. È chiaro che rilasciare a cielo aperto, alle interperie i rifiuti in particolar modo come in questo caso quelli plastici fa in modo che alla fine si creano quelle microplastiche che vengono rilasciate sia nella matrice terreno sia nella matrice acqua e che poi in un modo o nell'altro ritroviamo, ritornano sempre a noi attraverso gli alimenti. Marche Multiservizi è stata celere nel venire subito a ritirare questi rifiuti e che ringrazio, ma è un'azienda, non fa nulla per nulla. Questo qua sarà un costo, un costo che spetterà a tutta la collettività purtroppo, quindi lo ritroveremo tutti noi nella bolletta tari che andiamo a pagare ogni anno. Ecco perché l'hanno fatto questi cittadini, perché per non accollarsi direttamente questo costo che sarebbe stato io penso non più di 100 euro probabilmente se lo andavano a portare in discarica e invece questa cifra che sarà molto maggiore, il fatto che è dovuta intervenire l'azienda con un mezzo apposta per riuscire a ritirarli, un costo che sarà sicuramente maggiore e che verrà ripartito appunto tutta la collettività, quindi signori miei per l'atteggiamento di questi qua, di questi personaggi pagheremo noi tutti i cittadini di Montelabate. E da Montelabate ci spostiamo a Gradara visto che in questi giorni sono state ultimate le nuove pensiline per le fermate degli autobus grazie all'intercettazione dell'amministrazione di un ebando regionale di 58 mila euro. Il Comune ha scelto una linea moderna ed accattivante rifacendo i basamenti e sostituendo le 10 pensiline sulla strada provinciale. Il progetto proseguirà poi con ulteriori finanziamenti dal bilancio comunale per la realizzazione e sostituzione anche di quelle all'interno delle frazioni. E sempre in settimana, questa volta però ad Osteria Nuova, c'è stato il sopralluogo alle Parco Falcone Borsellino da parte dell'assessore ai lavori pubblici Luca Faroni e dell'assessore all'ambiente Pierluigi Ferraro. Da quanto è emerso, i lavori stanno procedendo speditamente e dopo l'installazione dei giochi di qualche mese fa si è passati alla piantumazione di varie specie di piante. Il parco è temporaneamente chiuso per i lavori delle caso e sarà breve fruibile per tutti i cittadini ed in particolar modo per i più piccoli. E ora invece parliamo di un argomento abbastanza insolito, ovvero quello della mancanza di personale. Questo è il caso della nuova Sartoria di Montecchio che pur avendo tanto lavoro e richiesta fatica a trovare nuovi dipendenti. Vediamo il servizio. La nostra problematica innanzitutto è formare i giovani perché molti giovani non sono propensi ed inclini a fare questo tipo di lavoro. Questo è un tipo di lavoro che richiede molta manualità, le macchine come vedi ci sono, ma le macchine vanno avanti con l'operatrice. L'operatrice se non è più che addestrata e formata, professionalmente parlando, rimane un po' difficile, però noi siamo sempre propensi ed inclini a aiutare e a formare queste persone, anche assorbendoci dei costi, diciamo, oneri a carico nostro, formando e praticamente pagando il dipendente, come giusto che sia. Questi sono gli ultimi mestieri che praticamente richiedono una certa manualità, ma non sono aiutati da nessuna parte, benché ricercati perché Fendi, noi stiamo lavorando adesso per Dolce Gabbana, abbiamo lavorato per Prado, io ho lavorato per Giorgio Armani, ho lavorato tanti anni fa per il gruppo finanziario tessile e praticamente queste aziende sono ricercatissime in questo ambito perché noi siamo un po' alla punta dell'iceberg. Il tessile, è facile dire tessile, io però non posso essere qui parrato che faccio gli abiti la sera e se lei vede alle mie spalle, abbiamo delle operatrici che lavorano ago e filo come le sartine di una volta. Siamo ricercati da queste aziende, diciamo, queste aziende manufatturiere blasonate della moda italiana e però siamo in carenza di manodopera, questo se non riusciamo e se non siamo aiutati da qualche parte, io ma anche le istituzioni, perché le istituzioni francamente le vedo un po' latitanti. Ecco, è una carenza di personale, come dice lei, qual è il suo invito a chi è magari appassionato di questo mestiere di presentarsi qui da lei? Certamente, io sto, guarda, io ho una serie di curriculum che praticamente sto selezionando, sto visionando, il 99,9% non hanno esperienza, però diciamo, ecco, ultimamente io ho assunto tre persone che non avevano esperienza, ma c'è una piccola infarinatura con il nostro settore. Gli ho fatto partire proprio, ovviamente siamo partiti come apprendistato perché sono giovani, però su 20 ne sono rimaste due, lo stipendio si aggira, si parte da 900 euro, come apprendista 1000, 1100, 1200, ovviamente più cresci di livello e poi vediamo, perché saremmo dei sciocchi farci scappare delle risorse umane che non si trovano. Spostiamoci ora invece a Mombaroccio, visto che nella mattinata di giovedì 11 novembre il camper vaccinale è tornato all'ingresso del centro storico. Dalle ore 9 alle 13, infatti, per tutti i cittadini con età maggiore uguale ai 12 anni, è stato possibile vaccinarsi in sicurezza e senza pernotazione. All'ecamper vaccinale, organizzato dall'Aso Remarche, è stato possibile ricevere la prima dose di vaccino, il richiamo della seconda oppure della terza. Il tour proseguirà nei prossimi giorni anche in altre zone della provincia, per permettere a tutti, qualora fossero intenzionati, di vaccinarsi senza pernotazione e in totale sicurezza. E ora cambiamo invece pagina e ci focalizziamo sulla storia di Ivonne Pagliari, una donna residente a Vallefoglia e che ha portato la sua battaglia contro il cancro al seno in televisione. Lo scorso 31 ottobre, infatti, Ivonne ha partecipato ad una puntata speciale del famosissimo programma all'eredità, una puntata dedicata alla ricerca e lei, ai nostri microfoni, ha voluto nuovamente parlare di questo tema dopo anche la scrittura del suo libro. Ivonne Pagliari, hai portato la tua storia all'eredità il 31 di ottobre in una puntata speciale dedicata comunque alla sensibilizzazione e alla ricerca. Ecco, ci puoi spiegare com'è andata? Allora, è stata un'esperienza molto bella e abbiamo potuto giocare per la ricerca. Sono stata contattata da AIRC, che è appunto l'associazione per la quale si raccoglievano fondi, e eravamo sette concorrenti. Come sapete, il gioco è un gioco di cultura generale, di velocità e grazie ai nostri ricercatori e anche grazie alle nostre testimonianze è stato raccolto molto di donazioni e il nostro amico Thomas ha anche vinto il Monte Premi, che poi è stato devoluto totalmente ad AIRC. La mia vita è cambiata totalmente dopo la diagnosi. Ho deciso di cambiarla, la mia vita, perché questa malattia non doveva essere per me un ostacolo ma un trampolino di lancio e ho guardato in faccia la malattia e ho guardato in faccia anche le donne che erano con me a lottare. E da queste donne io ho imparato molto, ho imparato che siamo molto forti e che possiamo dare forza alle nostre compagne. Quindi ho lasciato la mia vita tradizionale di impiegata, di selezionatrice, di risorse umane e mi sono dedicata, mi sto dedicando in tutto alle persone che hanno necessità di essere sostenute. Lei ha scritto anche un libro, è andato in ristampa a febbraio, adesso come sta andando? Allora, il libro si intitola L'ombra di una stella ed è uscito proprio, sì, a febbraio e a marzo è stato anche poi, diciamo, divulgato proprio per la festa della donna. È un libro scritto per le donne che combattono contro il male, nel mio caso il cancro al seno, ed è un libro di poesie e di testi teatrali. Il libro sta andando molto bene perché siamo alla quarta ristampa, quindi siamo molto orgogliosi. Quando presento il mio libro, di solito non leggo soltanto le poesie, ma leggo alle donne la mia esperienza, cioè la mia forza, da dove è venuta la mia forza e cerco di spronarle prima di tutto alla prevenzione e in secondo luogo alla tempestività, perché noi pazienti che abbiamo problemi con il cancro abbiamo soltanto due risorse, come ho detto anche in trasmissione al signore Insinna, che sono solo due risorse, che sono il tempo e la prevenzione. Queste due risorse ci possono fare la differenza, quindi spingo ancora a tutte le donne e anche agli uomini, perché ultimamente si stanno verificando casi di tumore mammario anche negli uomini, di ad ogni sentore di non allarmarsi e farsi intrappolare dalla paura, ma di essere coraggiosi e andare tranquillamente a farsi visitare, perché una mammografia non ha mai ucciso nessuna donna, ma una mancata mammografia ne ha uccise molte. Quindi vi prego, non abbiate paura. E concludiamo come sempre il nostro Vallefoglia e Pendelbruscolo Magazine parlando di sport e iniziamo dalla pallavolo. Nella giornata di domenica la Megabox Vallefoglia si è giudicata la seconda vittoria in Serie 1, staccandosi dall'ultimo posto che prima le apparteneva raggiungendo quota 5 punti. Il rulino di marcia delle Tigri segna ora due vittorie e quattro sconfitte, attendendo la trasferta di sabato 13 novembre che la vedrà impegnata a Casal Maggiore. Nelle Calcio, campionato di eccellenza, l'Atletico Gallo ha ottenuto un ottimo punto sulle campo delle Marina Calcio, pareggiando per 1-1. Sesto ed enesimo pareggio per il Rosso-Blu, che con quattro punti nelle ultime quattro giornate hanno conquistato fin qui 12 punti. Nelle campionato di promozioni invece continua la risalita in classifica del K-Sport Montecchio, che nelle match casalingo contro il Cantiano ha trionfato per 2-0. Sconfitte interne invece per il Vallefoglia, che nelle pomeriggio domenicale è stato battuto dalle portuali Calcio Ancona per 2-3. In prima categoria invece l'Atletico Tavuglia viene fermato in casa per 1-1 dal Vismara, ottenendo così il quarto pareggio su sette gare. Seconda sconfitta in campionato invece per l'Osteria Nuova, che dalle campo delle Muraglia esce sconfitta per 2-1. E con lo sport si conclude questa nostra nuova edizione delle Vallefoglia i Pendelbruscolo Magazine. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con noi qua su Rossini TV, vi rinnovo l'appuntamento venerdì prossimo il 19 di novembre e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.